Eccoci qua. Oggi il giornale apre con un retroscena molto preoccupante per la democrazia. Vogliono indagare Arianna Meloni. Attenzione, Arianna non ha fatto niente di male. Avesse fatto qualche reato sarebbe giusto approfondire e verificare, ma la colpa di Arianna è solo quella di essere sorella di Georgia. Dall'inizio delle esperienze di governo, giornali di sinistra e gruppi politici hanno iniziato a descrivere Arianna come la grande manovratrice delle nomine di governo. Ma Arianna non si occupa di nomine. L'abbiamo detto e ripetuto in ogni possibile circostanza. Addirittura però hanno scritto che la Didi Terna, la prima donna e verticina partecipata, sarebbe stata piazzata da Arianna perché è sua amica. Peccato che Arianna non l'avesse mai nemmeno incontrata, mai conosciuta. Sallusti, con il suo retroscena, mette in fila tutti i tasselli e svela in base al sistema Palamara perché starebbero montando questo circo su Arianna Miloni. Dietro a tutto questo potrebbe esserci il tentativo di inquinare la democrazia, condizionare, indebolire e ricattare il governo Miloni tramite questo colpo basso e surreale proprio ad Arianna. Una cospirazione di giornalisti, politici di sinistra e magistrati compiacenti per creare un evento politico. Attenzione, non per accertare un ipotetico reato. Se Sallusti, sempre preciso e longiminante, avesse davvero anche questa volta capito la trama, sarebbe gravissimo. Ovviamente, se fosse vero, l'inchiesta si smonterebbe da sola, ma dopo anni, nel frattempo, avrebbero provato a fermare riforme, giustizia compresa, e magari fatto rimettere le mani dei soliti lobbisti proprio su quelle nomine. L'allarme lanciato a Sallusti non può lasciare indifferenti. Nessuno che prova a inquinare la democrazia, colpendo Arianna Miloni, per minare il governo democraticamente voluto agli italiani, deve essere isolato, ora, nel palazzo, come è stato isolato dagli italiani nelle urne. Noi non temiamo niente, nessuno, si rassegnino, non ci faremo condizionare, non ci faremo intimorire, non ci fermeremo, non ci faremo ricattare. Le opposizioni tutte, però, chiariscano oggi perché attaccano Arianna Miloni con così tanta cattiveria e determinazione, visto che non ha ruoli né in Parlamento e nemmeno al governo. Se non lo faranno, dovremmo ritenere l'allarme Sallusti pericolosamente preciso e avanzato. Ciao Ari, un abbraccio, ci vediamo nei prossimi giorni in via della scrofa. Intanto, andiamo avanti.